Sono Giulio Rioli. Il merito di questa biennale è di mettere al centro la spiritualità che diventa anche il luogo in cui l'opera viene riconosciuta come tale. Il tema è il gioco, il gioco della vita in cui l'umanità è sospesa tra l'infinitamente piccolo e l'immensamente grande ed è tra queste grandezze inconmensurabili che ci troviamo a scaldire il nostro tempo. Questa infinita complessità della natura che riflette su se stessa vale la pena esplorarla ma senza distruggerla.